Siamo ritornati, siamo sempre qui al Motor Valley Fest, noi della Defezione di More insieme a Munner oggi parliamo con quelli che sono le aziende, le realtà del territorio e di come il connubio tra industria, accademico e soprattutto poi territoriale porti a quella che è l'innovazione e quello che vediamo al Motor Valley Fest. Oggi siamo qui in compagnia di Simone di Piazza e con me c'è Chiara per rivolgere questa piccola intervista, soprattutto volevo chiederti come stai, come è andato il Talent Talk di oggi e un po' le tue considerazioni anche un po' iniziali su questo Motor Valley. Grazie intanto per avermi invitato, il Talent Talk è andato molto bene, ho visto grande risposta da parte degli studenti partecipanti, un sacco di domande mi hanno assediato anche dopo alla fine del Talent Talk. Sono stato contento che sia passato il messaggio di quelli che sono prima la storia di Ducati, poi i valori della Ducati, quali sono gli aspetti fondamentali su cui ci concentriamo e dove cerchiamo i talenti che speriamo poi possano fare parte del nostro staff in futuro. L'abbiamo già detto ma vorrei ribadire, siamo in questo momento a Modena che sta svolgendo il Motor Valley Fest edizione 2024 e proprio sul connubio, mi riferisco in questo caso alla regione, Mila Romagna, che dimostra tutti i giorni di essere un'eccellenza nel settore, volevo chiederti proprio il connubio tra la regione e lo sviluppo, l'azienda, come è avvenuto? Noi siamo molto attenti a valorizzare il nostro territorio, a rispettare il nostro territorio, una dimostrazione di questo è che siamo soci fondatori del Muner e ci siamo impegnati a formare una scuola, un percorso accademico che permettesse di costruire i talenti che poi possono essere impiegati in tutte le aziende della Motor Valley e non solo nella Ducati, proprio per potenziare il più possibile un'area di così grande valore come quella della Motor Valley e della regione Mila Romagna. Io invece sarei curiosa di sapere, in quanto studente di Ingegneria Meccanica, come avesse iniziato lei, come avesse iniziato ad introdursi nella realtà del mondo automobilistico e se ci fosse stato un evento scatenante che l'avesse portata a intraprendere appunto la carriera nel mondo automobilistico e sportivo? Io sono stato molto fortunato, ho studiato all'università di Bologna, tanti anni fa ormai, mi sono laureato nel 1996 e sono sempre stato appassionato di auto e di moto però l'occasione è stata scatenante, è stato il fatto di aver fatto una tesi in cui ho valutato la fattibilità di un'idea brevettata in ottica applicazione ad una moto e questa moto era casualmente una Ducati, quindi da lì, nonostante non abbia fatto la tesi direttamente con Ducati, però mi sono occupato di una tematica collegata che mi ha fatto entrare in contatto con il mondo di Ducati e da lì è partito tutto e devo dire che nonostante siano passati un sacco di anni mi sto ancora divertendo e sono ancora super contento di aver avuto quell'opportunità e di aver fatto questa scelta. Invece per quanto riguarda il ruolo dell'azienda nel territorio, volevo chiederle come l'azienda contribuisse alla crescita economica nel Motor Valley? Allora, la nostra strategia come dicevo è quella di cercare di valorizzare il territorio, di restituire un po' anche di quello che otteniamo cercando di promuovere l'economia e il well-being delle persone che vivono in questo territorio. Quindi il fatto di contribuire al Motor Valley Fest, il fatto di partecipare attivamente nel Muner, il fatto di lavorare a stretto contatto con alcune delle università della regione, questi sono i modi in cui Ducati contribuisce alla crescita del territorio e noi crediamo molto nel valorizzare le eccellenze che abbiamo a disposizione. Quando anche ci rivolgiamo all'estero, noi siamo una multinazionale, vendiamo moto in tutto il mondo, e abbiamo però avuto un approccio alla globalizzazione che è stato quello di localizzare la produzione nei mercati dove volevamo andare a crescere il nostro business e non spostare la produzione altrove per sfruttare magari l'economia di paesi in cui la mano d'opera costava meno. Quindi questo secondo me ci fa onore, ci distingue, ci contraddistingue da quelle che sono magari delle strategie e più votate al risultato economico e meno rispettose del territorio di origine. Ci sono delle iniziative che le ritiene più significative per l'impatto territoriale? Diciamo così, alcuni dei talenti che assumiamo in azienda vengono chiaramente formati nelle università del territorio. Non è che noi ci rivolgiamo solamente a persone che crescono dall'Università di Bologna o di Modena, però è chiaro che c'è una certa precedenza, una preferenza nei loro confronti perché avendo innescato questo meccanismo di formazione un po' orientata alle competenze che poi sono utili nel mondo Ducati, abbiamo visto che riusciamo a generare dei profili che sono poi pronti per essere produttivi in un tempo più breve rispetto a studenti che magari vengono da università più generaliste. Ringrazio. Invece per quanto riguarda l'ispirazione per i giovani, rivolgendoci direttamente ai studenti e alle studentesse che aspirano ad entrare nel mondo dell'automotive, in base a quella che è l'esperienza ricercata e ai valori chiave dell'azienda, quanto effettivamente può fare la differenza aver partecipato ad un progetto Erasmus? Ci sono dei consigli che vuole dare per ispirare i giovani nel loro percorso? Allora, le esperienze all'estero secondo me sono di grande valore, perché aprono la mente e ti permettono di entrare in contatto con culture diverse dalla tua e quindi di cambiare un pochino il punto di vista. Quindi sono sicuramente molto apprezzate, non cito il fatto che fare un'esperienza all'estero permette anche di migliorare magari una lingua straniera e al giorno d'oggi si ha a che fare ormai con aziende di tutte le parti del mondo e quindi il fatto di padroneggiare anche una lingua come per esempio l'inglese è sicuramente un valore aggiunto non indifferente. Quindi io sono assolutamente favorevole a promuovere le esperienze all'estero e penso che farlo mentre si sta facendo il percorso di studi sia sfruttare una buona opportunità che non necessariamente dopo ti capita nell'esperienza lavorativa. Quindi benvenga assolutamente, lo stiamo già facendo e lo faremo sempre di più di rivolgerci a studenti che abbiano anche svolto esperienze all'estero. E c'è qualche lezione che lei ha imparato direttamente sul campo che vuole magari trasmettere a loro, agli studenti che ci stanno ascoltando? Io penso che si deve essere convinti delle proprie competenze ma aperti e disponibili ad ascoltare e credo che una lezione legata al fatto di imparare ad ascoltare venga proprio dal confrontarsi con culture diverse dalla propria. Quindi credo che appunto sono convinto che le esperienze all'estero ti permettano di migliorare in questo aspetto cioè nell'essere più aperto ad accogliere punti di vista diversi dal tuo senza con questo però diciamo venire meno alle tue convinzioni, l'assertività sostanzialmente. Invece per quanto riguarda innovazione futuro, visto che l'industria automobilistica è in continua evoluzione, Volevo chiederle in che modo la Ducati appunto si impegna ad affrontare le sfide del futuro soprattutto per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e lo sviluppo tecnologico. Allora noi facciamo parte del gruppo Volkswagen che è molto molto attento alla sostenibilità e stiamo chiaramente in linea con la strategia del gruppo. Noi abbiamo diverse iniziative, alcune più diciamo concrete e altre solo a livello di ricerca. Tra quelle concrete posso citare il fatto che abbiamo sviluppato la nostra prima moto elettrica, completamente elettrica, si tratta di una moto da corsa, siamo partiti con l'applicazione più sfidante che è quella di una moto da corsa appunto, partiti da un foglio bianco e abbiamo sviluppato in un tempo anche veramente molto breve, un veicolo che fosse molto competitivo, prestante, con prestazioni superiori al veicolo che precedentemente correva nel campionato Moto E e quindi in grado diciamo di avere un'autonomia maggiore e avere un tempo sul giro inferiore rispetto al veicolo precedente e tutto questo applicando dei concetti innovativi per quanto riguarda l'innovazione, spingendo al massimo sull'integrazione di funzioni e utilizzando soluzioni tecnologiche molto avanzate, alcune sviluppate internamente e altre sviluppate con l'aiuto di fornitori. Quindi in sintesi abbiamo a cuore la sostenibilità dei nostri prodotti, ci stiamo lavorando sul mondo dell'elettrico, siamo molto diciamo già coinvolti, quando vedremo un veicolo elettrico di produzione, questo è ancora difficile dirlo, però è chiaro che dopo aver investito tanto per lo sviluppo di un veicolo elettrico da corsa, prima o dopo ci sarà anche una Ducati elettrica su strada, targata, altri ambiti che riguardano per esempio l'uso di carburanti sintetici oppure possibili applicazioni dell'idrogeno, ecco questi sono settori in cui stiamo studiando, il tema dei carburanti sintetici anche grazie all'aiuto delle corse che ci stanno spingendo in questo senso, voi sapete che da quest'anno e fino al 2027 c'è un cammino di aumento, un percorso di aumento del contenuto di componenti non fossili nei combustibili utilizzati nelle competizioni e questo chiaramente è un elemento che trascina anche ciò che stiamo facendo come sviluppo in ambito produzione. Sull'ambito idrogeno siamo un pochino più indietro nel senso che siamo ad un livello di ricerca, però insomma non ci precludiamo nessuna strada, siamo attenti perché la tecnologia è in continua evoluzione ed è bene essere preparati per il futuro. Invece in quanto studentessa e sicuramente anche io vorrei entrare a far parte di questo mondo che sembra vasto e che inizialmente magari un po' spaventa in generale gli studenti ma anche e soprattutto in quanto studentessa volevo chiederle in che modo la vostra azienda si impegna nella promozione di un ambiente di lavoro equo, inclusivo ma proprio nella promozione della diversità e eterogenità. Allora la diversità è uno dei pillar che ci è stato anche trasferito dal gruppo Volkswagen di cui facciamo parte. Noi abbiamo proprio degli indicatori che vengono utilizzati per valutare il nostro operato che tengono in considerazione quanto per esempio ci si impegna per favorire un ambiente equ equilibrato e una distribuzione equilibrata per esempio del genere all'interno di professioni che sono storicamente di dominio maschile ma non si capisce il motivo sostanzialmente e lo facciamo cercando di promuovere anche con iniziative guidate anche dall'università e dal Muner il genere femminile in materie STEM che sono magari meno attraenti o meno diffuse e che però abbiamo visto possono dare tantissima soddisfazione da tutte e due le parti a noi quando riusciamo ad assumere delle brillanti ingegneri o chimiche o economiste e dall'altra parte quando questi talenti vedono valorizzato il loro contributo all'interno di un'azienda come Ducati quindi diciamo così siamo molto attenti abbiamo degli indicatori che riguardano anche il numero di donne rispetto agli uomini che stiamo cercando di impiegate per esempio in ricerche di sviluppo e stiamo cercando di lavorare per aumentare questo rapporto e riportarlo ad un valore di equilibrio come sarebbe dovuto adesso vorrei un attimo andare a concludere abbiamo parlato prima di come è nato l'amore con Ducati inaspettatamente nel 96 volevo chiedere un avvenimento o un qualcosa durante tutto questo percorso lavorativo che l'assenato comunque abbia avuto un impatto significativo sulla sua esperienza che ha fatto cambiare idea che ha fatto prendere gli occhi su qualcosa che è stato significativo in generale un momento che ricorda con piacere Allora io ho vissuto essendo in Ducati da tanti anni ho vissuto diciamo tante epoche di gestione dell'azienda e devo dire che nel 2012 quando l'azienda è stata acquisita dal gruppo Volkswagen per me è stato un momento veramente di svolta siamo passati da diciamo da un proprietario che era più interessato all'ambito economico allo sviluppo economico dell'azienda ad un altro proprietario che invece era interessato anche gli aspetti più legati alla passione e alla tecnologia che sono insiti diciamo nel DNA della Ducati ecco questo momento ha dato veramente una svolta allo sviluppo dell'azienda e devo dire che è stato di grande orgoglio per me vedere come un'azienda grande come il gruppo Volkswagen o Audi a volte si sia rivolta a Ducati per condividere delle conoscenze e per utilizzare delle conoscenze o delle esperienze che avevamo fatto noi in ambiti diversi come quelli auto ecco questo è stato secondo me un momento di grande orgoglio perché ha dimostrato che un'eccellenza italiana è in grado di influenzare e di portare dei contenuti di valore anche ad un colosso come il gruppo Volkswagen che conta 700.000 dipendenti nel mondo proprio di passione, tecnologia e condivisione probabilmente sono tre degli aggettivi che possono descrivere benissimo questo Motor Valley Fest io ti ringrazio ancora, ringrazio Simone Di Piazza ringrazio Chiara ringrazio anch'io grazie a te adesso continueremo la nostra giornata fuori del sole ci goderemo un po' questo Motor Valley noi ci vediamo tra pochissimo qui con altre interviste ringraziamo ancora tutti i ragazzi del Mune ringrazio i ragazzi di Radio che sono qui ci vediamo tra pochissimo arrivederci grazie a tutti i ragazzi di Radio che sono qui Grazie.